Vabbè non era questo, io abitualmente faccio gli onori di casa e forgendo sempre i miei più cordiali benvenuti. Un benvenuto speciale lo tengo sempre per l'ospite d'onore, cioè Marilu. E ormai è risappunto che in questo museo, essendo diventato un museo polifunzionale, facciamo di tutto. Ma una cosa che mi piace molto fare è la presentazione del libro, perché un libro presentato in un museo dove c'è la cura di cultura è sempre un pochino meglio rispetto a tante altre cose, in considerazione del fatto che la settimana scorsa, per esempio, abbiamo presentato sempre uno, un libro che si riferiva a Pannuti, Franco Pannuti e quello dell'Ant. Era scritto la figlia, il libro, l'intervista di L'Oparte, un personaggio straordinario. Io credo che sappiate tutti, anche voi che venite da Bologna, che cos'è l'altro, non mi spieghi, comunque è stata una cosa interessantissima. Sono i personaggi, sono i medici, eccetera, che assistono i malattie terminali. Una cosa fantastica per quello che è il lavoro, anche se è tutto un po' di... Non è una cosa simpatica, insomma. Però, loro sono delle persone storiche. E l'ultima norma, Danza Maraini, era lì seduta, ve lo sento adesso, e lo presento, e per me, anche se non so moltissimo, non so presentare il libro, per parlare del libro, eccetera, però preferisco parlare invece di quelle cose che so, come il fatto che questo museo, come ho detto prima, è polifunzionale, perché fa di tutto. Qui facciamo matrimonio, balliamo, facciamo belle feste, ristoranti, eccetera. Quindi, noi stiamo portando questo museo al centro dell'universo, perché pensiamo che il piede di centro lo porteremo sul serio, al centro dell'universo dell'arte. Mi sta... Tu sei già preparato? Sì, sì. Fai il modo che sia pronto anche sì. Allora, se io mi fermo, io mi fermo qui, mi ha già detto di come si tratta, e siccome io da bambino ho sempre avuto paura, perché abitava in una delle case più brutte del piede, e non c'era la luce, io andavo a casa solo di giorno, e dovevo stare attento che venisse la notte ad oggi, così mi viene in mente, e lo stavo dicendo, che il piede di centro, ho portato una serie di architetti a visitare il piede, e si sono innamorati, perché il piede è un vero paese, e si è meglio e l'altro. Bellissimo. Noi forse non ce ne accorgiamo più, ma il nostro paese è straordinario. E allora mi diceva, mia mamma, che ricordava ancora che alla sera, mezz'ora prima del calare del sole, suonavano le campane. Si chiamava Don Red Nod. Era un avviso a tutti i piedesi che stavano fuori, perché andavano a campane, di rientrare, perché entro mezz'ora tiravano su il ponte elevatorio di piede. Tu lo sapevi? No. Non me l'ha mai detto questo? Che tu era lì? L'ha perso mio padre. Ma lui non c'era, forse non ha avuto. Un onno. Ed era vero, in effetti ci sono ancora le cose dove si vede bene che c'era il ponte elevatorio. Quindi sono da torse, ma io non ho esagerato. Adesso io mi metto là anch'io, perché ho già il mio compito, lo ho già detto, quindi tocca a te.